Sì, amici, vi avevo detto che avremmo riparlato ancora oggi del problema del benzinaio. Ecco, l'autopsia sul bandito ucciso dal benzinaio. E dopo vi dico anche la sorpresa che ho avuto. Non si può fare a meno di incriminarlo, di indagarlo? No, non se ne può fare a meno, perché sono atti dovuti. Come sono atti dovuti? Sì, sono atti dovuti, se no non si possono fare degli atti a cui partecipi anche la parte del benzinaio. Ma non si potrebbero fare atti relativi alla morte di... Anche questo segnale piccolo piccolo potrebbe essere importante per la gente che vede, che sente. Che non è che una parte dello Stato intanto lo indaga per omicidio o per eccesso di legittima difesa. No, intanto viene un segnale, arriva un segnale che tutto lo Stato, completamente tutto, è con Abele, non con Caino. Cioè mi spiego. Se Abele, mentre Caino cercava di tirargli una coltellata, si fosse girato e gli avesse dato una martellata sulla fronte e avesse ammazzato Caino, chi avrebbe detto niente? Chi avrebbe detto io sto con Caino? Nessuno. Ecco, questo è successo. Quindi Abele non doveva ricevere avviso di garanzia, perché Abele lo Stato, non dico che lo debba premiare, ma almeno non gli deve rompere le scatole più di tanto. Poi, se le indagini su atti relativi dimostreranno senza nessun dubbio, nemmeno interpretativo, che questo schifoso ha voluto, lo ha aspettato e gli ha tirato apposta con il sadico intento di ammazzarlo, allora è un altro paio di maniche. Ma finché il benzinaio ha fatto il suo dovere di cittadino, ha fatto quello che lo Stato non riesce a fare con noi cittadini, ha fatto bene. Ma non posso non dirvi anche un'altra cosa, ha coltella due carabinieri, sì li ha coltella ed è libero in meno di 24 ore, sì perché è stato scarcerato il libico di 35 anni spacciatore di droga preso dai carabinieri, con due coltellate a due carabinieri a Padova? Eh no, ti pare che lo teniamo in carcere? Che cosa deve fare uno per stare in carcere? Deve fare come Corona? Perché Corona non ha ammazzato nessuno, non ha dato coltellate a nessuno. Insomma, e poi la famiglia vuole i danni? Adesso aspettiamo anche che la famiglia del libico vuole i danni perché nell'accoltellare i carabinieri gli è, si è graffiato un dito e quindi siccome è stato messo in libertà, adesso il libico chiederà i danni ai carabinieri perché avevano la divisa addosso o il vestito e non si sono fatti accoltellare per bene, male, dovevano porgere lo stomaco, la pancia al libico e farsi accoltellare, magari morire, così qualcuno poteva piangere lacrime, qualcun altro poteva fare altre sceneggiate contro il libico e tutti eravamo contenti. L'importante è che sia morto il carabiniere e non il libico, che sia morto Abele e non Caino.